Prego consigliere dell'Aquila Sindaco, Presidente, colleghi, il mio intervento è limitato proprio a quella parte nella quale il collega, il dottor Abbate, faceva riferimento e precisamente ha maggiori entrate per 201.000 euro, 892,58 che sono le somme che rivengono dagli imballaggi quindi probabilmente mi rivolgo all'assessore e anche al dottor Cartillo in una seduta della scorsa primavera che si tenne nel Consiglio Comunale che tenemmo, credo, nel Zitola e presso di San Pasquale io avevo fatto rilevare che negli anni il Comune di Lucera non aveva provveduto a utilizzare per sé perché queste somme erano di propria competenza e quindi per sole tre annualità siamo alla modica somma di 201.000 euro che tornano a casa come lessi. Quindi volevo solo ricordare al collega Abbate che in quella sede lui si arrabbiò tantissimo perché non sai che la lonna è cambiata nel memore, il dottor Cartillo te lo... Silenzio, facciamolo, silenzio, silenzio, adesso ce lo direi il dottor Cartillo facciamo conclusione. Diciamo che abbiamo più 201.000 e mi siano felici e contenti, grazie grazie consigliere dell'Aquila, se non ci sono ulteriori interventi né dichiarazione di voto vorrei a votazione la capo. Andiamo per la votazione per appello nominale, prego segretario. Pitta, Di Carlo, Battista, Coccia, Scirocco, Colucci, Codirenzi, Travaglio, De Maio, Preziuso, Giannantuoni, Zoppicante, Dell'Aquila, Conte, Abate, Matera, Conte, La Vecchia, Checchia, Aquilano, Aquilano, Niro, Di Battista, Conte, Russo, Conte, Colucci, Davide, Francesco, Giuseppe, Contrario, anche un eventuale cuba della maggioranza per non raggiungere il numero e non farci fare la mozione sulla situazione politico-ministrativa, è Tocco, Magoccia, grazie Contrario. Perfetto, 14 a 9, quindi viene approvato il punto. Se confermiamo la votazione per l'immediata eseguibilità andiamo per l'anzata di mano. Chi conferma la precedente votazione? Perfetto. Perfetto.